Gnocchi di rapa rossa, una gustosa ricetta di febbraio. Gli gnocchi di rapa rossa sono una ricetta semplice ma gustosa, pronta in pochi minuti e adatta sia come primo che come contorno. Per preparare gli gnocchi di rapa rossa occorrono pochi ingredienti ed il procedimento è facile ed intuitivo. Ecco gli ingredienti. 400 g di rapa rossa. 200 g di farina 00. Un uovo. Nocce moscata. Sale. Olio extravergine d'oliva. Un spicchio d'aglio. Ecco i passaggi per preparare gli gnocchi di rapa rossa. Pulire la rapa rossa, sbucciarla e tagliarla a pezzi. Cuocerla in abbondante acqua salata per circa 20 minuti. Scolare la rapa e tritarla finemente, poi unirla alla farina, all'uovo, al sale e alla noce moscata in una ciotola. Impastare tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo, quindi formare dei cilindri e tagliare dei pezzi di circa 2 cm di lunghezza. Scaldare una padella con l'olio e lo spicchio d'aglio, poi farvi dorare gli gnocchi di rapa rossa. Servire gli gnocchi di rapa rossa caldi, guarniti con prezzemolo e un filo d'olio extravergine d'oliva. Gli gnocchi di rapa rossa sono pronti. Una ricetta semplice ma gustosa, da gustare calda sia come primo che come contorno.